Ben trovati le notizie di oggi venerdì 18 di aprile. Gli agenti della forestale di Ancona hanno denunciato un cinquantenne rappresentante legale e 72enne consigliere delegato di una ditta fanese di recupero pneumatici fuori uso, entrambi di Pesaro, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione rilasciata dalla provincia di Ancona per l'impianto per i rifiuti non pericolosi a Montignano. Durante i controlli emerso che la ditta aveva depositato, i pneumatici diversi quantitativi di ciabattato e un ingente stoccaggio di cippato e granulato in aree non autorizzate. È stato presentato a Senigallia un opuscolo che racchiude tutti gli eventi, all events, Senigallia all events, vediamo. A Senigallia è stato presentato il calendario degli eventi e delle manifestazioni organizzate per la stagione 2014 dai comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Corinaldo, Mondolfo, Ostra, Vettere, Serra dei Conti e Tre Castelli. Un bellissimo programma che dimostra come il territorio sia vitale. Da Arcevia a Senigallia ci sono tantissimi eventi di qualità. Ad Arcevia ad esempio c'è l'itinerario Robbiano che dopo anni di lavoro siamo riusciti a mettere in piedi, che significa per noi migliaia di persone verranno a visitare i nostri monumenti e ci siamo collegati con l'iniziativa bellissima di Senigallia, la mostra Lacrime di Smalto. E poi comunque dimostriamo come territorio di essere compatti. Non si vende più un comune ma si vende un territorio, quindi la qualità enogastronomica attraverso le feste e le sagre, la qualità ambientale attraverso appunto percorsi ambientali nel parco e nelle realtà di campagna e tutta una serie di eventi che poi confluiscono in un territorio ricco di arte e storia, cultura. Corso Family Learning organizzato da Cosmarche, Università Politecnica delle Marche, con il patrocino del Comune di Senigallia e cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013. Il terzo incontro a cura di Daniele Bacchettini, ingegnere del Consorzio ABN, ha come titolo Automanutenzione per una corretta gestione della casa. Si terrà il 29 di aprile dalle 16.30 alle 19 presso la parrocchia di Santa Maria della Pace. Anche per l'estate 2014 il Comune di Senigallia organizza i soggiorni climatici e termali per anziani. Le domande possono essere presentate all'Ufficio di Accettazione e Servizi Sociali in via Marchetti. Possono fare richiesta i residenti del Comune di Senigallia che abbiano compiuto 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Dopo il successo della passata edizione ad Ostravetere viene riproposto l'ormai classico concerto del 25 di aprile denominato Musica allo Stato Libero con il patrocino del Comune. Sul palco, allestito in Piazza della Libertà dalle 16, si esibiranno ben otto gruppi i quali proporranno sia canzoni originali che cover di ogni genere e animeranno la Kermes musicale per più di quattro ore. Adesso lo sport. La prima tappa dell'European Cup 2014 si è disputata in quest'ultimo weekend a Bologna e subito gli atleti di punta della squadra di Mauro Guenci del Team Roller hanno saputo raccogliere i loro primi ottimi risultati. Linda Rossi, due volte campionessa mondiale sulle corte distanze, ha conquistato due stupende vittorie nelle altrettante gare lunghe in programma. nella 10.000 punti disputati appunto sabato, Linda ha abbattuto tutte le sue avversarie dando poi anche domenica una vera e propria dimostrazione di forza vincendo anche la 10.000 a punti eliminazione. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito nell'augurarvi una felicissima Pasqua, vi do appuntamento all'edizione di martedì prossimo. Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti!